Helios è una scarpa adatta a corse brevi, ma anche a un uso quotidiano. Ciò che la rende speciale è il comfort di calzata e il peso estremamente leggero. I materiali utilizzati sono estremamente confortevoli e morbidi. Per migliorare il comfort di calzata è stato aggiunto tra il piede e la zeppa un ulteriore strato in eva. La leggerezza è data soprattutto dal pacchetto della suola. Il battistrada alleggerito dalle parti che non vanno in contatto con il terreno e una zeppa in iniezione molto leggera. Il battistrada è realizzato in mescola friction a T e abbinato al sistema Morpho Dynamic la rende confortevole e ammortizzata. Traspirazione, leggerezza e comfort, il tutto racchiuso nell'essenzialità di Helios.